Un programma presentato da Fano Computer, da più di vent'anni al vostro servizio. Via Fragheto 8, Fano. Sport Park, la tua scelta per feste di compleanno, feste aziendali e team building. 40.000 metri quadrati di divertimento con bowling, biliardo, ping pong, sala giochi, playground, bar e ristorante. Sport Park è a Fano, in Viale Dante Alighieri 150. Running Center, scarpe e abbigliamento per la corsa e le camminate. Via Flaminia 69, Lucrezia di Cartoceto. Agenzia Generale Unipolsai, Aniballi e Associati. Sede di Fano, in Via delle Querce 11, zona ex Zuccherificio. Sede di Pesaro, in Via Mameli 72, centro direzionale Benelli. Francesco Gomme e Servizi, sostituzione e riparazione degli pneumatici. Le migliori tecnologie e soluzioni per ogni tipo di veicolo. Via Agnelli, Lucrezia di Cartoceto. Walter Pucci, carpenteria certificata, lavorazione laniere e creazioni in ferro battuto. Via Toniola 8, bell'occhi di Fano. Buonasera e ben ritrovati a Sportissimo, puntata numero 28 del settimanale di Fano TV, anche la decima di questa seconda stagione. Calcio oggi per cominciare, campionato di Serie D. L'Alma nel debutto numero 2 di Giovanni Cornachini sulla panchina Granata. Non va oltre lo 0-0 casalingo con il Sora. La situazione resta ovviamente critica. Granata ancora all'ultimo posto in classifica, seppure in affollata coabitazione e la quota salvezza è lontana non più di un paio di punti. Dell'Alma, del campionato di Serie D, ma anche con un'occhiata a quello di Serie C, tratteremo con Gabriele Morganti, ex allenatore della squadra Granata e di tante altre. Buonasera e benvenuto. Buonasera a te e benvenuti a tutti. Dicevamo di un'Alma che con il Sora ha in qualche modo dimostrato quelli che sono i suoi problemi attuali, una squadra che fa fatica a rendersi pericolosa, una squadra probabilmente non così ben assortita, che tra l'altro si è dovuta misurare con un avversario che invece ha mostrato un'identità molto precisa. Sì, guarda, io ho visto il fallo in due o tre volte e ti posso dire che se c'è una cosa che non si può assolutamente dire ai ragazzi è che danno tutto veramente. E lo ha riconosciuto anche Cornachini come primo aspetto. Assolutamente. È chiaro che vivono un momento difficile dal punto di vista dei risultati e le prestazioni poi diventano sempre un po' più nervose, un po' più poco qualitative, nel senso che si riesce a creare poco, però per il resto è chiaro che la situazione solo con un po' più di tranquillità e di sicurezza e di cercare di giocare un po' di più, secondo me, perché anche nel secondo tempo domenica è stata fatta una partita da tutte e due le squadre prettamente agonistica, fisica, dove era il campo era difficile, dove era difficile anche giocare, però c'era anche il timore di poter sbagliare e di prendere gol. Quindi un po' più di autostima, un po' più di sicurezza e probabilmente migliora anche la qualità del gioco. In questo momento l'impressione è che l'Alma non stia capendo bene quale ruolo poter svolgere, nel senso che è stata costruita con lo scopo dichiarato di non prendere gol e poi provare a sognarne uno per vincere la partita, poi anche con l'addio di Scorsini si è assistito ad una metamorfosi che però ancora non sta portando in una direzione precisa. Morale della favola, si segnano ancora pochissimi gol, peggiore attacco del girone, e di gol però se ne prendono, a parte l'esperienza di domenica che ha segnato in questo caso un'inversione di rotta. Sono d'accordo, sono d'accordo, è una squadra che deve trovare un'identità e un'idea di gioco precisa in modo da poter avere anche le certezze di domenica in domenica. Ci sono anche dei giocatori importanti perché io adesso c'è Gonzales che per me è un ottimo calciatore, che ha tanta qualità, a me è piaciuto anche il Tomassini, difensore centrale, poi ho visto l'esordio di domenica della mezzala che ha una grande gamba. Calombo. Calombo, esatto. Che ha trascorsi importanti. A parte urbinati, quindi voglio dire c'è anche del materiale. È chiaro che, ripeto, ci vuole un momento nel quale anche un po' più di fortuna in certi momenti, oppure comunque trovare un po' più di autostima perché devi anche cercare non di giocare solo dal punto di vista agonistico, che dice ho dato tutto, ma anche un po' più di qualità perché in questo campionato ci vuole anche un po' di qualità. Dicevamo dell'assertimento che non è ideale, che obbliga anche, in qualche modo, Cornachini lo ha fatto notare, a cervellarsi in panchina anche sui cambi da effettuare perché in Serie D c'è questo gioco degli under che è fondamentale. Cornachini che ha provato a disporre la squadra con il 3-4-3, ma in realtà i tre davanti erano Tenko Rang, che non è un centravanti e doveva fare il centravanti. Allegrucci che l'anno scorso faceva il difensore di destra nei tre dietro e Calumbo che è sì un giocatore che ama giocare sulla fascia, ma faceva abitualmente ai tempi del Gubbio il quinto di destra. Certo, hai ragione perché in effetti dopo in certi momenti devi anche trovare delle soluzioni che non sono proprio specifiche perché i giocatori non hanno determinate caratteristiche. Quindi ecco, un gioco d'assieme che deve cercare perlomeno di sfruttare le caratteristiche di ognuno. È vero, Tenko Rang ha bisogno secondo me di un attaccante vicino. Potrebbe essere in teoria Padovani che ha le prese però con un recupero molto laborioso, anche Domenico ha gettato nella misca e nella ripresa, ma si vede che non è al meglio. È vero, è vero. Poi sai in un momento anche che c'era molto gioco di verticalizzazioni, quindi era anche difficile stare vicini, ovvero palle buone. Però è vero, devono crescere, adesso devono cercare di fare queste due partite prima della fine del giorno d'andata, credo, cercando di prendere i più punti possibili. Perché comunque Fano deve cercare di migliorarsi anche dal punto di vista della squadra che ho visto che hanno preso un attaccante. Esattamente, è arrivato questo Coulibaly che però non è che abbia segnato moltissimi gol in carriera, esperienze per lo più in Serie D. Chiaramente la piazza si attende qualche pezzo un pochino più importante, ma tu mi insegni che se si vuole prendere un attaccante che faccia dei gol probabilmente bisogna mettere mano al portafoglio e in questo momento non è chiaro da un po' di tempo quali intendimenti realmente abbia la società. Sì, guarda, io adesso ho avuto dei calciatori che ho allenato, che fanno direttori anche in questa categoria e veramente, come dici tu, girano delle cifre veramente incredibili per attaccanti o centrocampisti o difensori centrali e le squadre che puntano a vincere spendono parecchio per questi ruoli. Ma è chiaro che anche chi vuole risalire un po' la corrente deve avere la potenzialità economica e puoi chiaramente cercare di non sbagliare chi devi prendere soprattutto in un momento che tu hai bisogno di avere uno, due o tre giocatori in più che però siano molto, molto importanti e giusti per te. Che effetto ti fa invece vedere il Mancini in questo momento? a parte la gradinata di Roccata, ma non moltissima gente la curva e anche i tifosi della tribuna sono vicini alla squadra ne apprezzano l'impegno però i rapporti con la società sappiamo che vivono da tempo una fase molto critica insomma non è la situazione ideale nella quale esprimersi. Bravissimo, infatti l'ambiente è poco caloroso nel senso che è vero che le hanno aiutate fino alla fine tutte le partite che io ho visto però è anche vero che il numero esiguo e a parte quei 50, diciamo 100, quelli della curva che tengono sempre alto il volume del tifo è un po' sconsolante in effetti si vede che c'è questa scollatura non tra la squadra e la tifoseria ma tra la società e la tifoseria quindi questo non aiuta sicuramente al momento attuale del fan. La tua esperienza credo ti suggerisca la considerazione che una squadra difficilmente va lontano se intorno non tutte le componenti in qualche modo si coniugano. Bravissimo, è così io guardo, io vivo a Senigallia e c'è la favola della Vigor Senigallia per dirti che ha vinto l'eccellenza quasi l'anno scorso e sono tre anni che ha lo stesso allenatore società molto seria, molto amata e sono più di 1000, 1500, 2000 ogni domenica quindi è quello che dice talmente vero che forse anche lì fanno più di quello che dovrebbero per il valore singolo dei giocatori che hanno però è un aspetto in questo momento come dicevi tu prima che sono ultimi in classifica anche se non è lontanissima la quota per poter lottare e salvarsi le componenti devono assolutamente ritrovare un equilibrio perché sennò diventa sempre più difficile anche perché poi il girone di ritorno è un altro campionato. Come sempre. Come sempre. E poi le squadre soprattutto in Serie D cambiano pelle e cambiano obiettivi anche le società perché magari qualche club che aveva delle ambizioni si trova fuori dai giochi e ridimensiona pesantemente. Bravissimo. E le partite poi diventano di meno e quindi i punti diventano più difficili da fare quindi credo che Fano meriti un ambiente che sia il più possibile coeso. Andiamo a dare un'occhiata ai risultati dell'ultima giornata. Si faceva riferimento alla Vigor Senigaglia che si è rilanciata con decisione dopo la sconfitta di Fossombrone e qualche altro risultato incerto sul campo del Vasto Girardi che non è semplicissimo. Vigor dalla quale magari alla luce dell'ultimo campionato ci si attendeva un avvio di stagione più convincente. C'è stato qualche problema a livello di infortunio ma mi pare che le cose stiano cominciando a girare. Fossombrone nel segno di una continuità straordinaria fa risultato praticamente tutte le domeniche lo 0-0 con Roma City non è poi banale anche se ha lasciato qualche rimpianto. Quanto invece al vertice della classifica Samredettese che si fa raggiungere nel giro di un paio di minuti a ridosso del novantesimo dall'Atletico Ascoli e viene appagliato in vetta dal Campobasso che nel frattempo appunto ha innalato un'altra vittoria peraltro lì davanti hanno vinto quasi tutte e allora la situazione torna ad essere molto incerta qualche settimana fa si ipotizzava addirittura un tentativo di fuga della Samredettese che però non è andato in porto e sappiamo come a Samredetto gli umori possono cambiare da un momento all'altro. Esatto, hai inquadrato bene perché la Samredettese negli ultimi minuti da Chieti che gli ha pareggiato il novantacinquesimo dall'Avezzano che gli ha pareggiato il novantesimo da domenica scorsa che ha preso due gol in un minuto in pratica ma sai ci sono dei momenti che io reputo le squadre forti in questo momento secondo me è il Campobasso perché riesce a vincere anche soffrendo e a volte anche non meritando in questo ultimo mese però vince invece la Samredettese per esempio che vinceva e quando deve vincere pareggia perché prende gol stupido o quando deve pareggiare e perde come ha perso domenica scorsa a Campobasso vuol dire che ti manca qualcosa a livello proprio di valore mentale della squadra. Tra l'altro Samredettese è allenata da un tuo figlioccio mi dicevi. Sì, io con Lauro ho vissuto un anno a Chieti dove ho vinto il campionato lui era un ragazzino di 19 anni ma sembrava già che giocasse uno di 30 quindi era già maturo è molto bravo vive in un ambiente chiaramente che esige tanto e adesso veramente poteva essere un po' più avanti e comunque deve giocarsela ogni domenica come fanno tutti. Lì davanti c'è anche l'Avezzano che è il prossimo avversario della squadra Granata domenica al Mancini Avezzano che sta procedendo a buonissimi ritmi e dalla sua ha quella continuità di risultati che caratterizza anche il Fossombrone poi c'è questo Chieti e qui chiaramente c'è un moto dell'anima nel tuo caso perché a Chieti hai letto, hai vissuto pagine importanti della tua carriera da calciatore poi sei tornato allenatore anche lì hai fatto molto bene cosa ricordi di Chieti e come vedi questo Chieti? Ma guarda, di Chieti posso dire che è la mia città nel senso lì sono molto molto amato perché hanno fatto il centenario nel 2022 e sono l'unica persona che ha vinto il campionato da calciatore quando ancora c'era la C2 e da allenatore la C2 no ma lì è bellissimo e adesso hanno preso la società da due anni gente piemontese che la gestisce in un modo diverso da come erano abbiati prima per me guarda stanno facendo bene dal punto di vista dei risultati ma non sono molto contenti dal punto di vista diciamo dell'espressione del gioco della continuità di rendimento della squadra quello che colpisce è che l'allenatore ama cambiare tanto da una partita all'altra e forse questo tu mi insegni non è proprio la politica migliore sì sono d'accordo però ecco come dici tu il fatto che la Sambu comunque ha avuto degli alti e bassi sono lì e quindi se la giocheranno lì comunque c'è un ambiente come tu dicevi che veramente li trascina perché hanno una tifoseria che si è riavvicinata con questa nuova società dopo molte stagioni da questo punto di vista esatto diciamo contraddittori sì esatto esatto e anche lì sperano di puntare a vincere quindi anche lì vedrai che faranno acquisti importanti come faranno tutti in questo periodo penso trasferiamoci al campionato di Serie C che ha avuto modo di seguire quattro le marchigiane Fermana sul fondo della classifica anche se ha inannellato un paio di risultati positivi la Vispesero ha bloccato sul 2-2 il Perugia rimontandolo due volte comunque dà un'impressione di solidità anche se mancano le vittorie e poi ci sono l'Ancona che si è fatta rimontare due gol a Sestri Levante non riesce a dare stabilità al proprio rendimento ma soprattutto questa Recanatese che ne discutevamo con altri ospiti per molti potrebbe apparire una sorpresa perché Recanati in fondo a livello di calcio professionistico dice poco ma in realtà si tratta di una società molto credibile e di una squadra con giocatori importanti Ti dico di più se prima mi parlavi di Lauro che è un mio figlioccio lì c'ho Giovanni Pagliari che è mio fratello perché mi hanno giocato insieme 4 anni a Chieti allora ti dico un aneddoto io sono andato a vedere quando erano in Serie D e poi dopo chiaramente l'ho seguito e gli ho detto tu a 60 anni hai imparato ad allenare perché ti assicuro che la Recanatese gioca un bel calcio molto propositivo a prescindere per dire domenica con Cesena o con chiunque affronti e gli ha dato una mentalità veramente importante e non è un caso che sono 3 anni che stanno facendo veramente bene perché hanno vinto un campionato l'anno scorso hanno fatto molto bene adesso sono lì nella media alta classifica e lui si è, Giovanni Pagliari si è secondo me come dovrebbero far tutti come ho fatto anch'io esatto ha studiato, si è evoluto, è migliorato e riesce comunque con il mestiere e l'esperienza anche umanamente a far sì che la squadra lo segua e ti assicuro io l'ho visto giocare più di una volta hanno due giocatori credimi Andrea che non è che sono Sbaffo e Melchiorri che hanno un'altra mente rispetto agli altri giocatori vedono le cose prima io l'ho visto fare delle cose contro l'Arezzo per dirti a livello incredibile e tutta la squadra poi lotta, corre, segue ma ha anche questa qualità hanno anche altri giocatori il portiere che è molto bravo un terzino sinistro che è molto bravo quindi sono riusciti come dicevi tu perché hanno una società seria importante che dà continuità e fondamentalmente per me in tutte le categorie se hai un'unione di allenatore e direttore che lavori nello stesso obiettivo e la società che ti aiuta che non ti fa mancare nulla tu fai bene per forza hai citato Sbaffo è forse l'emblema di questa considerazione che facevi perché in passato non ha mai avuto quella continuità pur esprimendo delle qualità evidenti e invece a Recanati questa continuità la sta trovando e a proposito di componenti che remano tutte nella stessa direzione ti facciamo vedere qualche secondo di un Fano Gubbio del credo febbraio 2004 diretta su Rai Sport il Fano vince 2 a 1 con doppietta di Piero Bon che mi ricordavi fu protagonista di una stagione eccellente vediamo un po' cosa successe quella sera lì con questo gol di Piero Bon ma date un'occhiata alla curva e questo naturalmente qualche riflessione rispetto anche alla condizione attuale la suggerisce sì guarda io sono stato due anni a Fano anche se poi il secondo non l'ho finito ma sono stato benissimo secondo anno in realtà non si era capito che la squadra era partito Piero Bon avevo avuto quell'anno lì anche Biagianti che poi ha fatto la Serie A quindi giocatori importanti però è stimolante è bello e eravamo riusciti come parlavamo prima a far sì che la squadra venisse aiutata hai detto bene guarda la curva è una roba bellissima veramente in un campionato in cui dava un'occhiata tu ti confrontavi con Max Allegri esordiente all'Aglianese e Maurizio Sare alla San Giovannese bravissimo ma ti dico un aneddoto noi ci salvammo in quell'anno lì prima di non rischiare il play-out invece andò l'Aglianese che allenava Allegri vincendo ad Agliana 2-1 credo un sabato di Pasqua sì sì verso la fine e lì hai detto bene lì ci salvammo mi ricordo che fece una gran parata che ci salvò il 2-1 Orlandi all'epoca portiere di allora di ritorno di ritorno Gabriele Morganti è stato un piacere accoglierti magari ti aspettiamo in un'altra occasione voi invece sarete di nuovo qui tra qualche istante e torniamo ad occuparci di calcio a 5 lo facciamo ai massimi livelli nella rappresentatività di questa provincia che ha solide radici in questa disciplina con il consigliere nazionale della divisione calcio a 5 della Feder Calcio Andrea Farabini buonasera e benvenuto buonasera Andrea buonasera Andrea Farabini che appunto è espressione del movimento del calcio a 5 locale che nasce parecchi anni fa tra l'altro c'è una società l'Alma Juventus che è stata una delle primissime tesserate poi c'è stata l'epopea di Palextra che ha poi originato quello che è adesso Little Service con una storia fatta di Scudetti e comunque di una permanenza nel massimo campionato consigliere nazionale della divisione calcio a 5 che tradotto significa? rappresento le società dei campionati nazionali che sono i campionati di serie A maschile e femminile di serie A2 elite di serie A2 maschile di serie B maschile e femminile con una serie di deleghe molto specifiche sì il nuovo presidente quando si è insediato tre anni fa il presidente Bergamini ha voluto rendere operativi i consiglieri il più possibile quindi delegando a tutti delle mansioni quello che riguarda il sottoscritto sono la più rilevante è quella dell'impiantistica sportiva insieme ad altre deleghe come la delega UEFA e i rapporti con l'AIA quindi con gli arbitri terreno delicato più degli altri due sì molto anche se magari gli altri possono essere più impegnativi soprattutto quello legato all'impiantismo dicevamo di un movimento quello del calcio 5 che sta vivendo una fase di trasformazione chiamiamola così perché sono state introdotte nuove regole per limitare l'impiego degli stranieri e degli oriundi che nella prima fase è stato necessario se vogliamo in qualche maniera però aveva raggiunto livelli magari eccessivi e quindi si è provveduto a riformare quelle che sono le modalità di partecipazione ai campionati come è nata questa scelta e quali sono stati gli effetti in concreto allora è nato tutto due anni fa dove su queste su queste regole se ne parla sempre tanto anche nel calcio poi ma non solo nel calcio anche nelle altre discipline e poi non si riesce mai a metterle a terra è stata una scelta coraggiosa del nostro presidente che l'ha voluto in tutte le maniere diciamo ecco che quello che si va a tutelare è la formazione della disciplina quindi del calcio 5 quindi i giocatori ci devono stare devono essere diciamo indistinta almeno su allora in serie B oggi almeno 11 giocatori devono essere devono essere formati quindi devono provenire dalla base su una lista di 12 è molto molto pesante anche perché si era arrivato ad un momento dove ecco l'impiego di giocatori non formati era veramente numeroso c'è stata una ricaduta sul piano tecnico perché ovviamente privandosi di un certo numero di stranieri che garantivano un livello anche spettacolare di un certo tipo non si poteva non pagare uno scotto sì diciamo che è stata una scelta abbastanza drastica quindi non ha non ha avuto un delle ripercussioni insomma di un certo tipo delle ripercussioni le ha avute diciamo più che altro e non tutti l'hanno digerita abbiamo un esempio infatti ho detto prima che è stata una scelta molto coraggiosa che all'inizio insomma ci sono state diverse polemiche poi diciamo anche Little Service aveva mostrato il proprio dissenso su questo però ad oggi se al presidente Pizza gli si chiede cosa ne pensa ha cambiato idea anche perché comunque ha sviluppato tanto il suo settore giovanile quindi conta più di 200 ragazzini a tutte le categorie addirittura certe squadre ce le ha doppie e sinceramente veder crescere i propri ragazzi i propri talenti è una soddisfazione in più probabilmente questa scelta è stata suggerita anche dai risultati della nazionale c'è stata la stagione d'oro con titoli europei medaglie ai campionati del mondo poi una fase certamente meno brillante dal punto di vista dei risultati adesso in qualche modo credo si stia ricostruendo vediamo delle immagini dell'avventura di qualificazione ai prossimi mondiali con l'Italia qui impegnata contro la Repubblica Ceca in un incontro terminato con una vittoria degli azzurri che si apprestano a disputare le fasi deficitive per qualificarsi ai mondiali in Uzbekistan nei prossimi giorni credo imminente l'impegno con la Slovenia poi la sfida con la Spagna che potrebbe risultare decisiva cosa vi aspettate da questa nazionale se in linea con le vostre aspettative cosa ci si può attendere in particolare da questi prossimi appuntamenti Sì Mr. Bellarte sta facendo un ottimo lavoro su questo sta lavorando veramente anche sui tanti giovani è cresciuta tanto anche la nostra nazionale under 19 che sta alimentando quindi anche la nazionale maggiore un nome su tutto mi viene da dire Isgro che è un ragazzo che è partito proprio dai nostri settori giovanili quindi veramente in poco tempo cominciamo a avere anche dei talenti formati questo sì e da queste due partite cosa ci si deve aspettare la qualificazione che è riservata soltanto dalla prima classificata è possibile o la Spagna è un gradino sopra e sarà molto complicato noi abbiamo dimostrato nella partita di andata di potercela giocare con la Spagna abbiamo perso 1 a 0 da loro e il risultato insomma ci è rimasto un po' sullo stomaco abbiamo adesso due partite in Slovenia che bisogna vincere assolutamente comunque non perdere per poi giocarcela con la Spagna perché si giocherà a Faenza il 20 dicembre si giocherà a Faenza il 20 di dicembre alle 6 e mezza direttarai so che ci sarà quasi un sold out un impianto da 4.500 posti che tra l'altro se non ricordo male era stato uno di quelli adocchiati dalla famosa commissione costituita sia a Faenza in funzione della realizzazione del nuovo trasport come impianto di riferimento esatto Andrea ricordi molto bene in quel tour in cui feci parte anch'io con l'assessore che poi alla fine non ha prodotto grandi risultati con i due assessori c'era l'assessore Fanesi e l'assessore Del Bianco sì prima andammo a Trento a vedere un altro bellissimo impianto e poi quello di Faenza e anche quello di Faenza è un impianto comunque costruito tempi addietro però ancora all'altezza vediamo anche le immagini di quella Spagna Italia al quale facevi riferimento sconfitta di misura per la nazionale azzurra tra poco vedremo anche un'altra nazionale all'opera quella femminile perché il futsal femminile sta facendo dei passi in avanti sì il femminile è cresciuto in questi anni veramente in maniera esponenziale con la crisi del calcio prima dell'avvento della divisione calcio femminile quindi del professionismo eravamo proprio in netto vantaggio perché comunque loro stavano decrescendo cioè il calcio stava decrescendo e noi comunque stavamo salendo oggi ci ritroviamo con una serie A veramente forse tra le migliori al mondo come Liga con Falconara tra le espressioni più importanti quest'anno redimensioniato un po' però è sempre lì quindi veramente bisogna dare merito al presidente Bramucci del lavoro che sta facendo a vedere le partite veramente tanto pubblico stesso un bel impianto anche se il Palabadiali poi ha fatto la storia anche con con la Palabolo soprattutto adesso ci sarà il primo mondiale di fuzzo al femminile dove tra l'altro l'Italia si è candidata per ospitare il primo mondiale speriamo di riuscire ad organizzarlo che sarebbe veramente una grandissima impresa nel frattempo nei giorni scorsi questi test con la Spagna che hanno dato sicuramente degli esiti convincenti con la Nazionale Azzurra che si è comportata bene scendiamo ora al movimento più prettamente locale abbiamo già fatto riferimento all'Ital Service vedremo delle immagini di una partita casalinga recente della formazione pesarese tra l'altro con un omaggio a Luca Casagrande che è stato dirigente appunto del calcio a 5 locale un'Ital Service che ha inanellato Scudetti in serie poi in qualche modo anche in questo caso c'è stato un piccolo ridimensionamento legato anche al cambio di regole però continua ad essere punto di riferimento del movimento provinciale non solo sì la serie A non solo l'Ital Service ma proprio tutta la serie A con questa riforma si è un po' ridimensionata e gli equilibri sono andati si sono diversificati è stata un po' ridisegnata la geografia è un campionato che veramente dalla prima può veramente perdere con l'ultima l'ultima può vincere con la prima e viceversa cioè è un campionato da questo punto di vista spettacolare quindi te le puoi aspettare ti puoi aspettare di tutto quindi grande credibilità grande incertezza anche su quello che potrà essere l'esito finale allarghiamo però la riflessione appunto alle altre realtà di questa provincia in particolare abbiamo la Bulldog Lucrezia nel campionato di A2 dove sta incontrando qualche difficoltà ma il campionato è lungo e poi ci sono appunto le realtà storiche come l'Alma Juventus Fano che continua a fare attività di base insomma qual è lo stato di salute del movimento del Futsal a livello provinciale sì oltre all'Alma Juventus va ricordato anche l'Eta Beta che fa comunque la certamente anche altre realtà citiamo l'Alma Juventus perché appunto storicamente si distingue l'Alma Juventus è stata la il nostro avversario stosico quando eravamo in serie B abbiamo fatto tante tante battaglie veramente in tutte in tutte le maniere Gian Piero Patrignani su questo è stato il capo pioniere diciamo il pioniere nella provincia e come sta questo Futsal a livello provinciale allora a livello provinciale direi molto bene diciamo il bacino della provincia di Pesaro Urbino è uno di quelli trainanti ma delle marche ma se proprio vogliamo allargare proprio a tutta la regione le marche sono veramente un'eccellenza per quello che riguarda il Futsal tieni presente che ci sono solo due regioni avanti come numero di società rispetto alle marche e sono il Lazio e la Sicilia e come numeri abitanti tieni presente che Roma ha 4 milioni di abitanti e le marche hanno un milione e mezzo un milione e sei di abitanti quindi il rapporto tesserati e abitanti è altissimo il primo in Italia quindi veramente molto 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 bene Sul piano del reclutamento perché poi c'è sempre comunque questo dualismo con il calcio in qualche maniera come vi state destreggiando? Allora dall'anno scorso è cambiata anche un'altra regola che è quella del doppio tesseramento una volta sei ritesserato nel calcio non potevi fare anche cioè tesserarti anche nel calcio 5 oggi abbiamo questo doppio tesseramento che sta aprendo tanto anche la strada a chi i ragazzi anche i settori giovanili che comunque giocano a calcio e vogliono comunque giocare anche a calcio 5 e mi pare che così si possa garantire una doppia opportunità si può fare una scelta quando si è veramente consapevoli di quella che è la disciplina in cui si riesce meglio esatto in più diciamo noi ancora non l'abbiamo come mentalità ma teniamo presente che già anche qui in Europa sia in Spagna in Portogallo ma in Argentina e in Brasile le società di calcio comunque fanno anche calcio 5 e lo fanno proprio nei settori giovanili cioè campioni come Ronaldo Neymar Messi e non parlo dei proprio parlo dei fuoriclasse comunque hanno quella capacità di palleggio e di tecnica che gli deriva esclusivamente dal futsal il calcio o sei dotato o non te lo forma in quella maniera quindi il calcio 5 noi lo diciamo ma è propedeutico al calcio ti dà una tecnica che nel calcio comunque o lo hai proprio una dote naturale come lo è come lo è stato Maradora come lo è stato Pelè altrimenti non lo riesci a coltivare solo esclusivamente con quella disciplina lì Ti è stata assegnata questa delega all'impiantistica e sei in qualche modo portavoce nelle diverse realtà del paese di un'iniziativa che proprio la divisione calcio a 5 ha elaborato si tratta in pratica se non ho capito male di portare progetti nelle città nei paesi per dare la possibilità su quei progetti poi di ragionare Sì è stata un'idea che ho condiviso con il presidente Bergamini appena ricevuta la delega ci siamo adoperati per fare dei progetti da mettere a disposizione delle società e comunque dei comuni che sono comunque interessati sì abbiamo fatto tre progetti preliminari con una stima di costi sono tre progetti di tre palazzetti tipo da 300 da 500 e da 1000 posti che sono diciamo il target ecco per poter svolgere la nostra disciplina almeno fino alla serie A2 Impiantistica tasto dolente a Fano ma non solo perché impianti che possano ospitare eventi di calcio a 5 di certo livello qui a Fano praticamente non ce ne sono andiamo a sconfinare nel solito tema del palasport facevi parte di questa commissione e credo tu faccia parte anche dei delusi che hanno partecipato a questa commissione come vedi la situazione? Come vedo la situazione? Fano è una città che ha bisogno veramente come il pane ma non solo per il futsal per tutte le discipline e non solo per lo sport non è difficile dire che abbiamo bisogno ecco bisogna trovare le risorse io dico che trovare cioè trovare le risorse non è poi così difficile perché comunque i bandi per fortuna anche col PNRR comunque escono ogni 3, 4, 5, 6 mesi comunque escono Sport e Periferia ormai esce tutti gli anni ormai da diversi anni ci vuole un pochino più di concretezza e soprattutto armarsi di un progetto sì ecco armarsi di un progetto perché nel momento in cui esce un bando al massimo sta 60 giorni e in 60 giorni arrivare ad un progetto esecutivo si fa veramente fatica per fare un bel progetto un progetto che poi alla fine deve essere poi anche perché fare un progetto poi deve essere costruito e poi gestito quindi avere un buon progetto vuol dire avere anche una buona gestione insomma bisogna crederci e farlo in maniera seria sì grazie ad Andrea Farabini consigliere nazionale divisione calcio a 5 noi torniamo fra qualche istante e apriamo ora la pagina della pallavolo un momento delicato per la Smart System che mercoledì è stata sconfitta in 3-7 a Macerata seconda battuta d'arresto per 3-0 per la formazione Virtusine fanno 3 stop di fila in trasferta dove la Smart System non riesce ad esprimersi così come fa con successo in casa e quella sconfitta quella di Macerata ha prodotto degli strascichi perché la Smart System che già valutava la possibilità ha deciso di separarsi dall'opposto Peter Mikalovic ingaggiato a ridosso dell'inizio del campionato quando è stato chiaro al club del presidente Cenerilli che non sarebbe stato possibile utilizzare Rizu Gonzalez messo contratto nel corso dell'estate perché non gli era stata rilasciata l'idoneità agonistica penalizzato da lunga inittività Mikalovic non è stato in grado di offrire il rendimento sperato di qui la risoluzione del contratto e l'ingaggio proprio in queste ore di Ristian Dimitrov 24enne bulgaro l'anno scorso a Parma dove ha conquistato i playoff Dimitrov che ha giocato anche in Germania Belgio e Islanda era poi tornato in patria nel corso dell'estate tesserato dall'Ebar club ambizioso che aveva reclutato anche una fitta colonia di italiani guidata dall'allenatore Giuliani pare che il club stia ridimensionando il proprio impegno e Dimitrov ha scelto di tornare in Italia farà il suo esordio domenica prossima in casa con Marcianise in una gara assolutamente da vincere per conservare un posto fra le prime quattro posto che darebbe diritto a giocarsi poi la Coppa Italia meglio sarebbe per la Smart System riconquistare la seconda posizione visto che la prima sembra davvero inaccessibile così da garantirsi anche l'opportunità di giocare in casa la sfida secca vediamo i risultati dell'ultimo turno la Smart System riposava con la vittoria la nuova vittoria della capolista macerata più sofferta del previsto proprio sul campo di quel marcianise atteso domenica prossima alla Palace Allende lì davanti bel valso in avanti di Lago Negro grazie al successo in 3-7 su Sabaudia mentre continua a progredire Palmi che sembra aver trovato la quadratura squadra regina che è passata sul campo del San Giustino la classifica ora con macerata imprendibile almeno al momento al primo posto che si è di fatto già garantita al termine del girone d'andata Lago Negro a meno 7 Smart System al terzo posto insieme a San Giustino via via tutte le altre fino a concludere con Sabaudia proprio con San Giustino l'ultimo impegno del girone d'andata per la formazione Virtussine sarà uno scontro diretto al vertice che avrà naturalmente ripercussioni molto significative sulla classifica ma in questa pagina dedicata alla pallavolo non possiamo ignorare il nuovo trionfo dell'allenatore fanese Angelo Lorenzetti quest'anno alla guida della SER Safety Perugia che si è laureata campione del mondo per la seconda volta consecutiva Bangalore in India la formazione Umbra ha avuto la meglio in finale sui brasiliani del Minas che erano già stati sconfitti nel girone preliminare un camino trionfale quello della squadra già campione iridata tutti i successi larghi quelli che hanno portato a questo trionfo il primo appunto sulla panchina degli Umbri di Lorenzetti che con la SER Safety sta facendo ampiamente il suo dovere anche in campionato nel nostro viaggio all'interno dell'universo dello sport del territorio non ci eravamo ancora avventurati nel pianeta del pugilato lo facciamo volentieri stasera ospitando Ervis Rucai allenatore dell'Audax Box Club Metauro buonasera e benvenuto e Giorgio Borrelli pugile giovanissimo del club fanese buonasera e benvenuto anche a lui buonasera Audax Box Club Metauro realtà che ha il suo epicentro a Metauriglia nella palestra della frazione a sud di Fano ma che ha come tante realtà sportive locali una sua storia che comincia per così dire all'interno in pancia al palazzetto dello sport di Fano lì dove con la cadaglia accanto ci si scambiava pugni all'interno di un ring Ervis hai vissuto quella pagina sì ho vissuto una parte di quella pagina e sì eravamo abbastanza stretti lì però guerriti fin dall'ora sì quella non mancava mai cosa ricordi di quei tempi in cui eravate appunto confinati in questo spazio molto angusto sì ricordo ecco come dicevi prima la voglia di allenarsi e ricordo il maestro Massimo Pedini ricordo anche un mio compagno Jacopo Monaldi che ricorderemo tra poco con qualche immagine dedicata sì ricordo queste cose qui non tante ma perché ci sono stato poco in quei anni lì in quella palestra pugile allora adesso allenatore come hai vissuto questa trasformazione avevo voglia di insegnare ai ragazzi quello che quello che magari non ho potuto fare io essere provare a essere un allenatore e come dire provare a essere un allenatore che trasmette le esperienze che ha fatto e quelle che avrebbe potuto e voluto fare trasmettere quello che non ho potuto fare da pugile e cercare di trasmettere ai miei ragazzi di che attività parliamo qual è il volume di tesserati anche sui quali potete contare guarda i tesserati sono non meno di 30 sono 30 ragazzi e di che fascia di età parliamo parliamo dai 13 anni come Giorgio Borrelli e arriviamo fino all'età di 35 anni parlo di agonisti e poi ci sono i quarantenni i cinquantenni che si allenano insieme a noi che hanno voglia di allenarsi cosa noti in questi ragazzi che si avvicinano al pugilato che non è una scelta diciamo in qualche modo tipica molto spesso i ragazzi si avvicinano ad altre discipline cosa hanno di diverso questi ragazzi che si orientano verso la box niente sono appassionati uguali agli altri ragazzi che magari non si trovano nel giocare a calcio e provano a fare il pugilato e magari c'è chi ci riesce e chi no perché è uno sport che possono praticare tutti ecco chiariamo questo aspetto perché uno può pensare beh ci si avvicina al pugilato perché si è dotati di una certa struttura fisica assolutamente no assolutamente no è uno sport che lo possono praticare tutti perché insegna tanto insegna la disciplina insegna a difendersi insegna a rispettare il prossimo insegna tantissimo e ancora la Nobel Art il pugilato così viene definita da sempre lo è ancora lo è ancora proprio per questi aspetti che sottolineare proprio per questi aspetti e le palestre di pugilato sono speciali sono veramente speciali io ho fatto anche calcio ho fatto anche altri sport ma per me la palestra di pugilato è veramente speciale l'impressione che si coglie anche scorrendo la documentazione che in qualche modo mettete assieme con i social è che si tratti di un ambiente il vostro molto coeso è così? è così è così è un ambiente molto unito si è molto unito ci si allena insieme quando ci si arriva ci si saluta tutti quando si va via si va via tutti insieme come dire è uno sport molto unito dai i ragazzi siamo abbastanza affiatati quando arrivano ragazzi giovanissimi che magari hanno piacere di intraprendere questa avventura avete magari qualche difficoltà a convincere i familiari che sia la scelta giusta o non è così? beh i familiari non li facciamo neanche entrare li facciamo aspettare di fuori almeno non interferiscono però qualche mamma preoccupata ci sarà si specialmente quando arrivano le ragazze ad allenarsi che hanno paura che magari si fanno male hai citato questo elemento che è interessante perché del vostro gruppo fanno parte anche ragazze assolutamente sì ragazzi ragazze donne come dicevo prima è uno sport che possono fare tutti tutti quanti e le ragazze quando arrivano vengono un po' diciamo i genitori sono spaventati perché una ragazza magari prende un pugno ma sono protetti perché comunque usiamo ovviamente usiamo le protezioni tutti i dispositivi esatto in allenamento usiamo tutti i dispositivi che ci si può valere hai accanto questo Giorgio Borrelli di cui si dice un gran bene quali sono le sue caratteristiche principali dove deve chiaramente ancora migliorare e dove invece fa già una certa differenza guarda le sue caratteristiche sono che è un bravo ragazzo molto educato quella particolare però non basta per emergere nel pugilato no ma quella particolare che è una buona strada per emergere nel pugilato che questo ragazzo si allena tutti i giorni e a volte prende l'autobus da Fano per arrivare fino a Metauriglia a 13 anni e allora cosa ti spinge a prendere l'autobus tutti i giorni per andare ad allenarti Giorgio? per poi un giorno arrivare a essere campione italiano o arrivare a un titolo molto molto grande per il momento quali sono i risultati che hai collezionato dall'inizio appunto di questa tua avventura? ho disputato dieci incontri sono andati bene male ho partecipato anche ai campionati italiani che però essendo primo anno in cui partecipavo non sono andati come volevo però mi sono accontentato lo stesso è stata una bella esperienza da riprovarli cosa ti piace del pugilato in particolare? molti dicono che il pugilato si è da soli ma in realtà non è vero perché in palestra ci si aiuta a vicenda è questo il lavoro di squadra l'allenatore quali consigli ti dà in particolare? tutti i più possibili che ci sono dove credi dover migliorare sei ancora giovanissimo ma in particolare? forse nel lavoro più di gambe però ci stiamo lavorando sei un peso leggero ma ovviamente il peso alla tua età è un elemento che lascia il tempo che trova diciamo così ci sono diversi coetanei con i quali ti misuri quotidianamente? in palestra mia a 13 anni non ce ne sono molti ci sono ragazzi di 16 17 18 anni hai provato a fare altri sport? sì ho fatto calcio due anni però l'ho fatto per seguire i miei amici e dopo ho smesso calcio per riprendere il pugilato dicevamo di Giorgio Borrelli che si sta distinguendo appunto per questo suo grande impegno puoi fare qualche altro nome di ragazzi che hanno messo in mostra delle doti che hanno anche già azzeccato dei risultati assolutamente sì abbiamo tanti ragazzi che come Gabriele come Clyde come Giovanni Erion ne abbiamo parecchi che vanno sulla strada giusta che si allenano seriamente e per l'osservatore esterno è un po' difficile interpretare il mondo del pugilato anche a livello ovviamente internazionale con le diverse categorie soprattutto con le diverse etichette a livello giovanile come funziona il meccanismo a livello giovanile funziona così che una volta all'anno ci sono i campionati regionali e bisogna vincerli come li ha vinti Giorgio poi si va ai campionati italiani e lì potrebbe esserci qualche chiamata dalla nazionale anche semplicemente per fare uno sparring partner ecco quello è l'unico svolgete la vostra attività alla palestra di metauriglia dopo esservi trasferiti appunto dalla palace a yende è un ambiente che si adegua alle vostre necessità oppure ci sarebbe bisogno di uno spazio più ampio si si adegua ecco sì perché lo spazio non basta mai perché i ragazzi sono tanti guarda veramente sono tanti ragazzi che entrano in questo mondo anche se non sembra lo spazio c'è ma se fosse più grande sarebbe meglio raccogliete anche ragazzi non pretamente fanesi ma dal resto del territorio dalle vallate in particolare ah sì sì vengono da Senigallia vengono da Calcinelli vengono da Fano vengono sì in questo caso vi potete considerare un punto di riferimento sul territorio per il pugilato nel senso che siete una realtà alla quale si pensa subito nel momento in cui si vuole fare box sì sì se vuoi fare il pugilato l'Audax da tutte le garanzie del caso è il posto giusto abbiamo accennato al fatto che vi è venuto a mancare qualche anno fa ormai quasi sette Jacomo Monaldi che era una delle colonne portanti di questo movimento abbiamo delle immagini che lo ricordano e che credo al di là delle immagini questo ricordo sia vivo nei vostri cuori quotidianamente assolutamente sì Jacopo era un grande amico un grande ragazzo un bravissimo ragazzo con un'esperienza sulle spalle e ci allenavamo tutti i giorni insieme i primi pugni li abbiamo tirati insieme Jacopo era un ragazzo veramente speciale e anche nel suo nome che avete continuato a sviluppare questa attività è il suo ricordo che in qualche modo vi spinge sì noi lo ricordiamo spesso nelle nostre attività lo ricordiamo spesso sì le nostre divise portano le sue iniziali IM Jacopo Monaldi dicevamo di un'attività che si sviluppa all'interno della palestra di Metauriglia ma soprattutto d'estate siete protagonisti anche di incursioni all'esterno anche in spiaggia ci andiamo allenando anche in spiaggia facciamo allenamenti in spiaggia facciamo esibizioni in spiaggia così cerchiamo di far vedere un po' il pugilato com'è e ancora c'è interesse valutate ancora che ci sia interesse intorno a questo sport da parte della gente comune io penso di sì c'è notiamo questa cosa qui che c'è interesse molto interesse Giorgio concludiamo con un sogno nel cassetto hai detto vuoi arrivare al titolo italiano però di qui diciamo ad uno o due anni al di là del titolo italiano cos'altro ti proponi di fare? cioè di entrare in una nazionale entrare in nazionale avere un diploma da nazionale oppure entrare in qualche squadra sportiva che poi più là può tipo le fiamme possono dare un lavoro in futuro esattamente è un sogno nel cassetto del tuo allenatore quale può essere? che i suoi sogni si realizzino credo che sia la migliore risposta possibile grazie a Ervis Rucai allenatore dell'Audax Box Club Metauro grazie a Giorgio Borrelli pugile dell'Audax Box Club Metauro grazie a tutti voi per averci seguito vi aspettiamo la settimana prossima torneremo alla collocazione del martedì sera sì grazie a tutti Grazie a tutti.